segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te io credo che questi linguaggi soprattutto quando si parla di cinesi vanno un po decrittati insomma c'è dietro tutta una cultura una maniera di esprimersi che bisogna studiare a fondo prima di interpretare il vero senso delle parole di fatto la cina diciamo si pone questa volta seriamente ha fatto un passo avanti presentando qualcosa di concreto diciamo che vogliamo tutti vedere certo c'è una vicinanza non so se di ferro di altro tipo fra cina e russia e questa credo che avrà un ruolo preminente durante le negoziazioni successive putin vuole negoziare nessuno glielo ha mai chiesto seriamente ecco quindi diciamo quello che io trovo anche come output di questo anno e che tutti hanno ragionato come se putin non volesse negoziare quindi non ci hanno neanche provato ecco la verità che nessuno ci ha provato nessuno di quelli che contano diciamo no no perché ricordiamo le varie telefonate macron eccetera però vedo anche peter che fa sì con la testa lei dice nessuno di quelli che hanno un peso vero cortine fumogene diciamo contorno ecco però veramente io credo che sicuramente se putin venisse legittimato come interlocutore da baino e tanto per fare un esempio che è l'unico poi già cominceremmo con il piede giusto perché secondo la cultura russa questo questo fatto li predisporrebbe bene verso poi io sentire anche peter su